Musica Benvenuti a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro giocatore Siamo tornati signori con un nuovo video di Clash Royale Il mio obiettivo è quello di provare a portarvene uno al giorno Come benvenuto ragazzi perché Mi sto chiudendo, mi sto infoniamo E sto cominciando a cazzo come una bestia questo gioco Perché sargo scendo E' un bordello ragazzi, veramente un bordello assurdo Quindi mi raccomando un bel like, come sempre Non so quante chiedermene, quindi a vostro piacere Mi raccomando, io direi subito di iniziare ragazzi Poi questi video me li sto registrando uno dopo l'altro Perché mi sto avvantaggiando un pochettino di lavoro Quindi poi se arriveranno altri sfide Ospiti e challenge Mi raccomando li vedete nei prossimi video Non in questi primi 1, 2, 3 video forse Mi raccomando ragazzi direi di iniziare immediatamente Se sapete ci inchiaccherò Ragazzi direi che possiamo iniziare Intanto al massimo possiamo chiedere qualche carta A questi baldigiovani Io le carte cosa ho sempre, sono il domatore e cose varie Questi però non me danno Uh datemi il domatore Datemi i domatori Tanto che scefate, datemi i sti domatori Allora vediamo un po' questo come si comporta Io provo a buttargliela subito Così e così Vediamo un po' come si comporta Ok la tronco ce l'hai Uh Ma si è portato via il domatore Ok Ah facciamo così Oh cazzo Oh cazzo No bastardo Maledito Dai una botta Eh almeno una va bene Viscio Bravo domatore Eh la torre è andata La torre è andata Eh la torre è andata La torre è andata La torre è andata Noi quello volevamo No quello volevamo Boom Assolutamente è stato anche inutile Buttare la valchiria così Molto inutile Allora mettiamo Di qua il moschettiere Poi Eh lo sapevo che tanto mi metteva Il pezzo di fango lì Facciamo così Vai un bromantino Vai chiappa tutto Acchiappa tutto Così ci piace Via 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 come il vento Bangete Bangata Forza Vai valchiria Vai lì Vai torre Vai Torre ha detto vai Boom Mi è saccato Ora ho perso pure io Ti cazzi 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 vai Ok Abbiamo rischiato tantissimo Abbiamo rischiato Un botto Raga Abbiamo rischiato Un botto Un botto Un botto Un botto Papo un botto Ok Siamo quasi al 5400 Non voglio parlare ragazzi Forse raggiungiamo il mio record Ma chi lo sa Mesita Vediamo come stai messo Mesita Ecco Amo dalla stessa tattica Mesita Bene Vabbè Io ti ho dato una botta in più io Allora No Ok abbiamo preso un po' di botto Vai forse Iada è una trambata Bravo Va bene Va bene Siamo più o meno uguali Vediamo come sta messo Ok Ok le frecce ce l'ha Le frecce ce l'ha Ok Sto domodoro non ci voleva Sto domodoro non ci voleva per un cazzo Proviamo Pazzo Natore per uno Ma è stato sì Tosta ragazzi Questa è tosta Ho sprecato troppo 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 Elisir Troppo Allora Non ho sprecato troppo Ok Però a me è una per una Però Non c'è Grazie a tutti. Lo sapevo, guardalo! Lo sapevo, lo sapevo! Mamma mia! Lo sapevo! Lo sapevo, sì! Vai! Vai, come io ero vinta questa! Lo sapevo che lanciava i scheletrini proprio all'ultimo, mi ha detto un culo, raga! Madonna! Madonna! Che tronco, raga! Mi ha fatto vincere la partita... No! Dai! 5395! Dai, mo che me manca... Guarda, eh! Guardate, mo che me mancano 5 di quelli che non riesco a fare niente, eh! Mo la perdo l'ultima, guarda, è proprio scont... Uh! Io un po'... Gratis... Ok, vabbè, niente di che... Grazie, è l'ultima partita! Va, giocherò! Facciamo 37 cavalli questo, si chiama! Si chiama 37 cavalli! Vediamo un po'... Te saluto! Te saluto, roghi! Allora, io sto sotto di... Io sto sotto di... Di Elisir, quello è sicuro! Sto molto sotto di Elisir! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, dai! Può andare abbastanza bene! E' un po' di frecce! E' un po' di frecce! All'assunto gliela butto direttamente sopra, così forse qualche hit la faccio! Però gli do buttare subito sopra il barile! Subitissimo, proprio! Stiamo più o meno... Più o meno stiamo messi bene! Stiamo a... 60-40 per lui! Eh sì! E' fatta una bella cazzata, amico mio! Oddio, là non se l'hai giocata proprio benissimissimo! Ok... Ok... Eh, ma sai, qua sono morto! Ma sai, qua ho perso! Beh, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ragazzi! Ah, poi mi hanno il bacettino! Vabbè, dai, ci sta, ragazzi, oh! God's are! Ma... Ma lei è qualcuno che conosco pure? Perché me... Tante volte... Vabbè, stavo bravo! Questa la siamo giocchicchiata, dai! Quasi 5.400, ragazzi! Quasi raggiunto il record, ma ancora non ce l'ho fatta! Ma porca puttana! Mi manca veramente poco, raga! Signori, niente! Il mio record ancora non sto riuscendo a raggiungere! Potevo vincere questa partita, l'avevo fatto, ma non ce lo sono riuscito! Ma per un pelo, eh! Per un pelo, in mia persona sono molto bravo! Niente, ragazzi! Vi è terminato! Spero ovviamente vi sia piaciuto! Speriamo nel prossimo video di riuscire a raggiungere il mio record di 5.400 coppia! Io ce l'ho mai fatta, raga! Ve lo dico proprio mai! Quindi vediamo un po' se ci riusciamo! Proverò anche il prossimo video sempre con questo deck E poi, dopo questi video qui, proverò a cambiare deck oppure a sfidare qualcuno! Mi raccomando, ragazzi, un bel like! Ci vediamo al prossimo appuntamento! Ciao, ragazzuoli!